A Campobasso questa mattina, a Palazzo San Giorgio, conferenza stampa di presentazione della settimana del Buon Invecchiamento 2018. Vediamo. La settimana del Buon Invecchiamento, Alessandra Salvatore, una serie di eventi e iniziative grazie all'interessamento dell'amministrazione comunale di Campobasso. Sì, devo dire anche grazie al centro Alzheimer dell'ASREM, al dottor Dentizzi e ai presidenti dei centri anziani, senza i quali non potremmo realizzare queste attività. Si tratta di una serie di eventi che loro preparano durante tutto l'anno e che poi durante la settimana mettono in campo. Giochi a squadre, esibizioni, quindi gare di ballo, di spettacoli di varia natura. Sabato pomeriggio andrà a escena alla GIL, quella che è l'attività che loro hanno preparato. Devo dire che è uno spettacolo divertente, molto godibile. Gli altri anni c'è stato un bel successo. Un lavoro di concerto con le associazioni degli anziani e i vari centri che parte da lontano per quello che riguarda l'amministrazione di Palazzo San Giorgio. Sì, diciamo che la settimana del buon invecchiamento nasce con questa amministrazione, devo dire condivisa in commissione anche con le minoranze. Ed è un momento che tutti gli anni ormai si ripete. L'edizione 2018 è nel solco della memoria e del ricordo. Si parte da lontano e ripeto appunto i centri anziani ci lavorano durante tutto l'anno per poi arrivare a questo momento, il momento finale di loro soddisfazione anche rispetto alla città. Obiettivi invece per quello che c'è ancora da fare per i prossimi mesi? Sicuramente l'apertura, l'inaugurazione dei posti di RSA. Il bando e l'avviso si è chiuso. È in atto la procedura, diciamo, l'istruttoria per l'aggiudicazione. Per cui dovremo completare la filiera dei servizi dedicati appunto a questa età con l'RSA, con gli alloggi protetti e con tutto quello che è appunto il circuito legato alla terza età. Si va dai centri anziani che sono i luoghi dove gli anziani stanno bene, sono autonomi, sono protagonisti della loro vita, fino ad arrivare appunto all'RSA che invece è il luogo dove devono essere accuditi perché non sono più in grado di farlo da soli. Dovremmo completare la filiera, questo è l'obiettivo per la fine della consigliatura.